L'Accademia Progetto Teatro è un'idea di aggregazione, di comunità. Quest'anno è molto cresciuta l'Accademia perché abbiamo creato un piccolo teatro all'interno dell'Accademia di 60-70 posti. I nostri sono dei ragazzi che vanno dai 7 anni ai 16 anni. Facciamo una sperimentazione con loro, un teatro sociale importante dove i ragazzi sono i protagonisti. Questa sera abbiamo messo in scena uno dei classici Ulisse partendo dal libro di Piumini, Ulisse re dei viaggi e delle bugie. Ci siamo messi a raccontare quello che è stato il viaggio di Ulisse. Ulisse è stato il protagonista di questa serata qui a Ciro Marina. Grazie. 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 Grazie.